Le elezioni regionali si avvicinano anche se non si conosce ancora la data in cui i calabresi saranno chiamati alle urne per il rinnovo del Consiglio regionale, ma i contrasti all'interno dei partiti politici proseguono e in gioco ci sono le candidature, in primis quella alla carica di governatore. Sembrava che i contrasti fossero prorativi dal centrodestra e dal centrosinistra e invece anche all'interno del Movimento 5 Stelle c'è spazio per le polemiche. I molti dalla Calabria hanno chiesto al leader Luigi Di Maio di non riproporre in Calabria l'alleanza innata al governo, ovvero quella che vede insieme il PD con il Movimento 5 Stelle, ma una nuova polemica è scoppiata anche fra lo stesso Di Maio e la parlamentare calabrese dalle Lanesci, che si era proposta per la candidatura al presidente. Di Maio ha bocciato la candidatura della Nesci facendo appello a quelle che sono le regole del Movimento 5 Stelle, ma nella vicenda è subentrata anche l'ex ministro per il Sud Barbara Lezzi. Tramite un post su Facebook, la Lezzi si è schierata con la Nesci, citando anche Giancarlo Cancellieri, nominato nella squadra di governo, nonostante il suo ruolo, poi lasciato il deputato e vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana. Avendo derogato per Cancellieri non esiste più nessuna regola che impedisca a Dalia di candidarsi, ha scritto la Lezzi, a meno che non si voglia rinunciare e abbassare la bandiera del Movimento 5 Stelle per sempre. Dunque scintille che potrebbero avere degli effetti decisamente pesanti in vista delle regionali e non solo.